Deve essere molto antico. Guarda com'è corroso e rovinato lo scafo. Non ho mai visto un'astronave simile. E' di forma e concezione completamente sconosciute per noi. Guardate là. E' orribile. Umanoidi di proporzioni colossali. Tre volte almeno la nostra statura. Kel, resta qui e tieni gli occhi bene aperti. Va bene. Sania e io diamo un'occhiata all'interno. Se quello si muove, chiamaci. D'accordo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.